Ci troviamo sul Faito e precisamente sulla cima chiamata Cerca Sole, fa parte della catena dei Monti Lattari. Qui è stato ricostruito l'antico santuario in onore dell'Arcangelo Michele. Il primo santuario è costruito dai Santi Catelli Antonino sul Monte Molare, sulla cima di Sant'Angelo e Treppizzi nel VI secolo ed è stato lì fino alla fine del 1800. Poi qui è stato ricostruito tra la prima e la seconda guerra mondiale, precisamente i lavori sono iniziati nel 1937 su iniziativa di un laico, il commendatore Amir Calasciarretta. Interessante di questa costruzione, questo santuario è stato costruito con la cosiddetta scalata delle pietre. E' bello pensare che quando qui non c'era la strada, non c'era la funivia, c'erano soltanto i sentieri, le persone, giovani, anziani, venivano qui portando la pietra sulle spalle per costruire il santuario in onore dell'Arcangelo Michele. Il sito michaelico qui sul Molare, sul Faito, dopo quello del Gargano è certamente il sito più antico, di fatto risale al VI secolo, quando l'Arcangelo Michele apparve ai Santi Catelli Antonino e chiese di costruire uno santuario in suo onore.